ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video e ben ritornati su minecraft lo so che sto facendo un po tanti video però lo so è bello già questo è l'altro mondo non so se ve l'ho già fatto vedere scrivetemelo nei commenti allora ho piantato diversi alberi eccola così poi oh non pede il cazzo mi sembra proprio di avere il pollice verde non so perché ok qualcosa mamma mia grazie creeper voi credevate che quei buchi li li avessi fatto io con le tnt oppure scavando no no mi sbagliate al 100% allora ecco la mia casa si capisce subito poi guarda se dice che non sono gentile allora ho fatto prima ammazza sta mocca allora casa di luigi tutti possono entrare che dormire serve perché mi baggo le lette non mi spiace adesso io riposso io riposso dai guarda se non mi spiace Grazie. 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 how could this fall? tipo che bella le violette sono queste violette io non l'ho fatto io ci siamo appena arrivati uhuh qui ci faccio una strage ok ma cosa è un po' brutta se non si sente le cose allora oh ora eh 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 un po' poco qui ho fatto una grotta qui siamo nel defluo per divertirci dai un po' più 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 questa è la cosa che piace a me mamma mia mamma mia mamma mia mi sembra mi sembra tipo io di essere una un griffer che devo un po' più 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 dai per questa volta chiudo qui spero che il video vi sia piaciuto e ciò vi auguro una buona giornata ciao